Retrocessione della VL, la parola ai tifosi, ora ripartiamo con una nuova dirigenza. Proseguono le indagini per la morte in Austria di Xavier Granchi, esclusa per ora l'ipotesi di omicidio. Famiglia libica senza casa da un anno e mezzo, l'appello della Croce Rossa di Pesaro ai pesaresi. Terza edizione di Winetour, dalle 9 al 12 mazzo, giornate all'insegna della sostenibilità. Per la famiglia Italservice è l'ora dei play-off, Loreto Basket a Senigallia, calcio a 5 in trasferta a Roma. Una buona serata telespettatori di Rossini TV e benvenuti a questa nuova edizione del nostro Rossini News. Telegiornale di oggi, martedì 7 maggio, che apriamo ancora una volta parlando di sport e della retrocessione della VL. Una retrocessione avvenuta domenica sera sul campo della Reiere Venezia. Sono giorni tristi in città per un dramma sportivo che ha avuto purtroppo il suo compimento. Ora è anche però il momento di guardare con calma al futuro e a una base su cui ripartire è quella del tifo bianco-rosso. Un tifo che non ha mai fatto mancare il proprio attaccamento alla squadra. Vediamo. Si dice spesso che le ore successive ad un evento negativo sono sempre le più complicate. Ma per riprendersi dalla retrocessione in Serie 2 della Vittoria Libertas di tempo ce ne vorrà tante e probabilmente non sarà mai abbastanza. In città si respira un'aria triste. Il popolo bianco-rosso, che in ogni momento non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alla squadra, ieri ha esposto uno striscione sotto la sede della VL con la chiara scritta «Ora andatevene». In riferimento ai membri che compongono la società. Un popolo, quello dei tifosi, da cui dovrà ripartire la nuova scalata della VL per tentare subito la risalita nella Serie cadetta. Domenica eravamo molto in centinaio, ma già sapevamo che comunque il miracolo, ovviamente io è tanto tempo che lo dico, che non poteva venire perché dovevano concatenarsi troppi risultati. La delusione è tanta, soprattutto per ovviamente anche l'atteggiamento della squadra nel terzo quarto. Prendere più di trenta punti quando sai che devi solo vincere e poi magari ascoltare la radiolina di cosa hanno fatto gli altri. Quindi la delusione è tantissima. Purtroppo è stata vissuta, come tutti, penso molto male, perché fino all'ultimo momento abbiamo sperato, almeno noi, di salvarci. Anche se le possibilità di farlo erano veramente scarse, io almeno personalmente ci credevo fino all'ultimo. Però tutto è stato uscito male, perché comunque è una retrocessione quasi annunciata, perché si è intervenuti sempre sul mercato in ritardo. Soprattutto ci retrocede perché la squadra è stata fatta male in partenza. Non si possono sbagliare, cioè non si possono prendere cinque americani in grado di fare la differenza in un campionato italiano. Con lo sguardo rivolto già verso il futuro, la speranza dell'etifo pesarese è quella di un ricambio intero di tutto l'organigramma societario e la conferma di un pesarese doc come Andrea Cinciarini. Io mi auguro che Andrea decida di restare, perché comunque così come ha voluto accettare la proposta a quasi metà campionato di venire a Pesaro per cercare di salvare il salvabile, ripartire dalla 2 con un leader come lui sarebbe sicuramente fantastico per molti tifosi, perché comunque hanno visto tutti l'attaccamento che ha veramente a questa città, visto che è anche nato e cresciuto eccessivamente qua, quindi fondamentalmente sarebbe sicuramente fantastico per tutti che lui chiudesse la carriera qua. Per quello che riguarda il futuro societario, auguriamoci che tutte le voci che stanno uscendo vengano confermate. Quindi io personalmente, parlo chiaramente a livello personale, mi auguro veramente che Ario Costa, Rombaldoni e Amador Cina CdA, cosa che almeno stamattina sembrava che fosse confermato, quindi mi auguro quello, di non ripartire con volti nuovi, persone competenti e soprattutto speriamo con persone che abbiano voglia di far ricrescere questa società che fondamentalmente è reprocessa nel peggiore dei modi, un anno proprio disastroso. Il desiderio nostro è quello di fare subito chiarezza sul futuro, sulla nuova società e sui programmi. È importante subito avere un buon budget per affrontare la Serie 2, perché sembra tutto facile, ma in realtà la Serie 2 richiede un grosso sforzo economico e soprattutto bisogna intervenire, fare vedere la tifoseria pesarese, questo è importante, di intervenire subito sul mercato, far vedere subito che la società è presente e fermare subito i giocatori, perché i giocatori italiani sono i primi che bisogna fermare. Da lì si parte, quindi qui si spera sicuramente in una conferma di Cincarini come capitano e poi per il resto gli italiani fanno la differenza nella Serie 2. E dallo sport cambiamo argomento e passiamo ora alla cronaca. Proseguono le indagini delle autorità austriache sulla morte di Xavier Regranci. Il ragazzo 21enne di Piobico ritrovato senza vita lo scorso sabato. Gli inquirenti per il momento hanno escluso l'omicidio, mentre secondo le prime ricostruzioni l'ipotesi più accreditata è quella della morte accidentale. Il corpo del ragazzo, che ricordiamo essere stato rinvenuto dalla polizia austriaca in prossimità di un ponte riverso su una pista ciclabile, sarebbe, secondo gli inquirenti, deceduto per le lesioni riportate a seguito di un volo di circa 10 metri. Ulteriori informazioni verranno a conoscenza nei prossimi giorni dopo l'autopsia, mentre per il rimpatrio della Salma a Piobico ci vorranno almeno una o due settimane. Fattorie Marchigiane ha sospeso la sua produzione. Il provvedimento arriva dopo che nei giorni scorsi in asse dei carabinieri hanno sequestrato circa 90 tonnellate di latte e 110 tonnellate di prodotti latteri o caseari, oltre che circa 2,5 tonnellate di sostanze sofisticanti come soda caustica. I controlli sono avvenuti allo stabilimento di Fattorie Marchigiane, una controllata dal gruppo Copperlat a Colli al Metauro, un deposito di prodotti caseari nell'Etrevigiano e un'azienda agricola nella Val Marecchia. L'azienda ha comunicato che nel corso del consiglio di amministrazione della controllata Fattorie Marchigiane, tenutosi in data 6 maggio, già Luigi Draghi, presidente di Fattorie Marchigiane, ha deciso di rassegnare le sue dimissioni. Contemporaneamente è stata stabilita la sospensione dell'attività dello stabilimento di Colli al Metauro per consentire l'attività di verifica ed eventuale bonifica degli impianti di produzione e dell'intera struttura. Ed ora cambiamo argomento e parliamo di accoglienza. Da circa un anno e mezzo la Croce Rossa di Pesaro ospita una famiglia in difficoltà nella propria sede di Via Saffi. Il nucleo familiare, composto da padre, madre e due bambini, è arrivato qua dalla Libia a causa dei conflitti che da tempo coinvolgono il paese. Da qui nasce l'appello di solidarietà da parte della Croce Rossa italiana di Pesaro per ritrovare una nuova dimora a questa famiglia. Vediamo il servizio. La Croce Rossa di Pesaro lancia un appello per una famiglia in cerca di una casa da ormai più di un anno. Ospitati infatti dai volontari per un periodo che si sarebbe dovuto limitare a qualche settimana, hanno visto l'attesa prolungarsi di circa 18 mesi. Tengo a precisare sin da subito che si tratta di una famiglia che proviene da Libia, però che risultano cittadini italiani. Quindi sia la madre sia i figli minori sono cittadini italiani a tutti gli effetti. Un giorno l'arma dei carabinieri ci chiese il supporto per l'accoglienza di una famiglia libica e la Croce Rossa di Pesaro è stata operata sin da subito per trovargli un alloggio all'interno della propria foresteria. Un alloggio che deve essere temporaneo per qualche settimana nell'attesa di trovare una collocazione definitiva. Questa temporaneità si è protratta ormai da un anno e mezzo e la Croce Rossa di Pesaro è garantita con risorse ed energie proprie, grazie anche al contributo dei propri volontari, vitto e alloggio all'interno della propria struttura, che è una foresteria attualmente però totalmente inadatta per dare una dignità a una famiglia che ha bisogno comunque di essere reinserita all'interno del tessuto sociale. Sono stati coinvolti i servizi sociali dell'amministrazione comunale, i quali si sono adoperati all'interno delle loro competenze per collaborare nell'attività svolta dalla Croce di Pesaro, così come anche la Caritas nella fase iniziale ha dato un suo supporto. Oggi tuttavia ci troviamo una difficoltà nel dare una soluzione definitiva per questa famiglia. Esistono risorse pubbliche e private disponibili per sostenere la famiglia nella locazione di un immobile, tuttavia siamo nelle difficoltà di trovare un immobile adatto e idoneo a questa famiglia. Quindi chiediamo a tutta la cittadinanza, a tutti coloro che possono essere interessati, un supporto di contattarci e di rendere disponibile l'immobile che eventualmente hanno per questa famiglia. La solidarietà pesarese poco dopo l'appello si è già fatta sentire. Una chiamata infatti è già arrivata alla Croce Rossa, che ricorda di come a far da garante per l'affitto vi sia il comune, che ha predisposto un contributo di sostegno, oltre allo stato lavorativo del padre. Pesaro Solidarie si è svegliata, ha già dato un primo segnale, stamattina abbiamo ricevuto la prima chiamata di un immobile disponibile, nei prossimi giorni faremo insieme alla famiglia una verifica circa il rispetto delle condizioni per poterlo locare, ma già un primo segnale è arrivato e questo ci fa molto piacere. L'amministrazione comunale ha già reso disponibile un contributo mensile per la famiglia per le spese che sostiene per la locazione di un eventuale immobile. Il marito ha un'attività lavorativa, quindi svolge in qualità di dipendente in un'azienda del nostro territorio, quindi sì, direi che hanno anche una situazione lavorativa e si impegnano in tal senso. Come Croce Rossa riteniamo importante comunque all'interno di questi percorsi garantire la dignità dell'essere umano, della persona in quanto tale, tanto più nella condizione in cui ci sono dei minori presenti. Per questo la nostra foresteria non si presta più per fare queste attività di accoglienza perché possiamo svolgere in maniera dignitosa solamente un'accoglienza temporanea, emergenziale e non un percorso duraturo. E nelle telegiornali di Ghirevi abbiamo mostrato un'intervista all'assessore Francesco Frenquilucci che ha risposto alle accuse che gli erano state rivolte dalle candidato sindaco Pia Perricci. Quest'oggi però è arrivata la replica della Perricci che ha voluto chiarire la situazione. Sentiamo. L'avvocato Pia Perricci, candidato sindaco della lista civica aperta Vieni Oltre, replica alle parole di Francesca Frenquilucci, assessore della Comune di Pesaro ed esponente della Movimento 5 Stelle. Una risposta che tocca vari punti, da quello delle accuse a quello delle minacce, fino alla tempistica delle dichiarazioni. Noi non è che replichiamo, noi vogliamo chiarire definitivamente un polverone che si sta alzando. Allora, noi non abbiamo accusato in alcuna maniera la Frenquilucci di nulla. Abbiamo chiesto dei chiarimenti. Ora, se i cittadini non possono chiedere dei chiarimenti, questo dimostra il fare poco trasparente di un'amministrazione che si è tenuta sempre lontana dai cittadini. Noi abbiamo semplicemente segnalato delle situazioni e richiesto dei chiarimenti. Quello che è emblematico è che la persona che sta alzando il polverone è proprio la Frenquilucci che non è accusata di nulla e invece gli altri, i dati ci sono, voglio dire, la Mattioli, Perugini e la Cecchini, i dati ci sono. Quindi piuttosto che alzare questo polverone, noi ci chiediamo come mai il Movimento 5 Stelle, che era all'interno del Consiglio Comunale, che era all'interno degli uffici comunali, non ha verificato nulla di questi affidamenti diretti. Peraltro la situazione è molto grave che questi affidamenti diretti sono stati effettuati in un momento di crisi economica, non solo dei pesaresi, ma degli italiani, perché era il periodo Covid quando tanti pesaresi non riuscivano, non potevano andare a lavorare. Quindi questa è la parte più grave, la mancanza di trasparenza. Quindi quello che sorprende è questo comportamento. In merito alle asserzioni fatte sulle minacce, voglio precisare che le minacce a me sono arrivate sul mio telefonino, sul mio cellulare, sono scritte e sono arrivate alle 23 di notte, dove mi è stato detto che io non potevo permettermi di parlare, di dire che il Movimento 5 Stelle aveva votato all'unanimità a favore dell'aumento della Tari e che avrei avuto delle ripercussioni. Io sinora non ho sporto denuncia e non ho fatto il nome di colui che mi ha minacciato proprio perché stavo conducendo delle elezioni politiche in una maniera pulita, proprio per non alzare ulteriori polveroni. Ma considerato che vengono messe in discussione anche le minacce, ora io mi trovo costretta a depositare la denuncia per dimostrare quella che è la mia serietà e quindi entro la giornata di domani io depositerò la denuncia nei confronti di colui che mi ha minacciato. Così anche questo verrà smentito. Per il resto noi abbiamo fatto e reso noto i dati nel momento in cui li abbiamo avuti. Non è che li abbiamo resi noti oggi perché volevamo sporcare la campagna elettorale. Li abbiamo avuti adesso e adesso li abbiamo resi noti. Perché purtroppo la pubblica amministrazione del Comune di Pesaro non è mai stato collaborante al punto tale che adesso mi troverò a fare un ulteriore ricorso perché abbiamo fatto accesso agli atti per sapere le spese per quanto riguarda la sfera, la biosfera, le spese di manutenzione e altro. Sono scaduti tutti i termini. Prima di fare ricorso ho detto scusate guardate che sono scaduti i termini. Ci date una risposta e nessuno ha mai risposto. Quindi noi rendiamo note le cose ai cittadini nel momento in cui ci arrivano le risposte. E nella cornice dell'hotel Charlie di Pesaro è stato presentato il programma della lista civica P-Sarò, giovani per l'anzi sindaco. Una lista interamente composta da Under 35 a sossegno delle candidato a sindaco di Pesaro per il centro-destra. Questa lista civica nasce con l'esigenza di avere una rappresentanza Under 35 nel nostro Comune, nella nostra amministrazione. Nasce con un intento di portare delle nuove politiche nella nostra città, delle politiche volte ai giovani, al futuro per portare questa città, proiettarla verso il futuro. Le nostre idee vanno dal turismo all'emergenza abitativa che colpisce anche i giovani, oltre a tutto il territorio comunale. Diamo molta importanza alla salute mentale, prevedendo uno sportello psicologico per gli Under 35. Diamo molta importanza anche alla parità di genere. Vogliamo potenziare i centri antiviolenza. Vogliamo abbattere l'IVA sugli assorbenti, insomma, un occhio di riguardo per le cosiddette quote rosa. Pensiamo molto anche agli studenti. Vogliamo riportare qualche facoltà delle università marchigiane qui a Pesaro. Vogliamo dare una completa rivoluzione all'informa giovani affinché sia uno strumento al servizio dei giovani, sia a livello di corsi, di preparazioni, ma anche ad esempio per l'imprenditoria giovanile. Deve essere uno strumento per tutti per cercare di crearsi un futuro sicuramente migliore e lavorativo in questi tempi così difficili. Il Mengarden riapre il suo giardino. Alla via l'11 maggio la seconda edizione del progetto promosso da Circolo Mengaroni e Black Marmalade Records. Sarà il cortile fra le mura delle giardine dell'ex carcere minorile ad ospitare le cinque giornate nel programma da maggio ad agosto ed in trisi di poesia, musica e mostre mercato. Come spiegato dagli organizzatori, la speranza è che questo diventi uno spazio costantemente curato e fruibile, con il festival che volta a mostrare la potenzialità di un luogo che deve diventare bellezza e condivisione per cose positive. Importante riconoscimento per l'orchestra Olimpia che questa mattina ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2023-2024 dell'Università Politecnica delle Marche tenutesi presso il Teatro delle Muse di Ancona. Durante il concerto l'orchestra Olimpia ha eseguito l'over tour della Gazzaladra di Rossini, L'Inno d'Italia, L'Inno alla Gioia di Beethoven e In the Hall of the Mountain King da Pergint di Grieg. E Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, è pronta ad accogliere la terza edizione di Winator con due novità davvero importanti. Aumentano gli spazi dell'evento e sono bene quattro le giornate, dalle 9 al 12 maggio, all'insegna della sostenibilità. Vediamo. Quest'anno l'edizione si compone di quattro giornate invece che di due, l'abbiamo aumentata sia per fare onore, per festeggiare anche noi Pesaro come capitale della cultura italiana, ma anche perché la Swarovski Optic, quest'anno che compie 75 anni dalla sua fondazione, ha lanciato due prodotti estremamente innovativi. Uno, chiamato My Junior, pensato per i più giovani. Quindi giovedì e venerdì porteremo delle scolaresche al piazzo del Mirafiore in escursione, in escursione molto divertente, con delle guide professioniste, ovviamente per fargli provare questo prodotto molto maneggevole, divertente, pensato anche per loro. Abbiamo creato un'edizione veramente diversa. Un venerdì in cui ci sarà una conferenza qui in Piazza del Popolo con i maggiori esperti di direttori di parchi, piuttosto che esperti di natura, per parlare di come i parchi possono anche diventare delle opportunità economiche di fare turismo durante tutto l'anno perché il parco non soffre di stagionalità come magari può soffrirne il mare. Quindi sabato e domenica ci ritroviamo invece a Parco del San Bartolo, sulla Fiorenzola, da cui partiranno tantissime escursioni guidate con altri guide professioniste che utilizzeranno i nostri binocoli. Questo nuovo binocolo, nuovo, innovativo, questa fortissima innovazione che c'è nel mondo dell'osservazione. È un'occasione fortissima che ovviamente ne parleranno gli esperti. Io pratico sostenibilità tutti i giorni, però ovviamente non ho titolo per parlarne come i direttori di parchi, come gli altri ospiti che arricchiranno veramente un dialogo molto interessante, come abbiamo fatto tutti gli anni. Tutti gli anni, e questa è la terza edizione di Be Nature che facciamo a Pesaro, abbiamo sempre portato questi temi che appassionano veramente tutti, dipendentemente dal fatto che poi effettivamente vadano in mezzo alla natura oppure no. E concludiamo il nostro telegiornale parlando di sport, perché è tutto pronto in casa Italservice per l'avvio dei play-off in questo rush finale di stagione. Il Loreto Basket farà il suo esordio domani sera in trasferta nelle quarta di finale sulle campo della pallacanestro Senigaglia. Trasferta che vedrà però protagonista anche l'Italservice Pesaro Calcio 5 che venerdì sulle campo dell'Olympus Roma giocherà gara 1 dei suoi play-off. Sono e siamo noi come famiglia, come dirigenza molto soddisfatti perché abbiamo entrambe le nostre società, l'Italservice Loreto Basket e l'Italservice Calcio 5 che entrambe si approcciano ai play-off e quindi possiamo dire che siamo le uniche società qua di Pesaro che si giocano delle finali play-off per cercare di l'Italservice vincere lo Scudetto, il Loreto per salire di categoria. C'è una grossa soddisfazione, un grosso entusiasmo, una grande emozione perché io come presidente, la prima volta che vivo dei play-off, come presidente di una squadra di pallacanestro è la prima volta che vivo dei play-off e speriamo così, quello che ho detto anche alla squadra, quello che dico sempre, speriamo di andare il più lontano possibile e di creare tanto entusiasmo qua a Pesaro tra i nostri tifosi. La sfida con Senigaglia come la vede? La sfida con Senigaglia è una sfida molto intrigante, tra l'altro c'è anche una curiosità, il nostro direttore generale Federico Ligi è stato per tanti anni direttore generale di Senigaglia quindi sarà ancora più emozionante. Io la vedo in maniera positiva, iniziamo domani, quindi la prima partita sarà domani sera e Senigaglia è una squadra molto forte, molto ben organizzata e strutturata, molto ben incostruita, però siamo molto molto fiduciosi perché comunque l'Ital Service e l'Erito Basket, soprattutto nel girone di ritorno, ma anche nella seconda fase è cresciuta tantissimo e quindi è una squadra completamente nuova, i giocatori si sono dovuti amalgamare, conoscere e dopo una prima fase un pochino di difficoltà poi abbiamo preso bene, i giocatori si sono sciolti, si sono conosciuti, quindi io sono molto ottimista. Ital Service Pesaro Calcio 5, che come l'Oretto Basket inizierà in trasferta, si parte, quarti di finale, gara 1, venerdì sera a Roma contro l'Olympus. Siamo anche lì molto ottimisti perché c'è una grande soddisfazione in quanto l'anno scorso noi veniamo da una stagione un pochino disgraziata, tra virgolette, per vari motivi che sappiamo tutti, la riforma, siamo partiti tardi a costruire la squadra, quindi l'anno scorso abbiamo giocato dei play-out e abbiamo rischiato di retrocedere. Chiaramente quest'anno con le nuove regole ci siamo adeguati alla perfezione, al nuovo regolamento e quindi abbiamo costruito anche qui una squadra molto competitiva che è riuscita ad arrivare ottava e quindi giocarsi questi play-off. Non dimentichiamoci che sarebbero bastati tre o quattro punti in più e saremmo arrivati quinti, quindi questa dimostrazione che abbiamo fatto un ottimo campionato e proprio per questo in proiezione anche qui siamo ottimisti perché comunque l'Olympus è vero che è una squadra molto ben costruita, chiaramente sono arrivati i primi con un largo distacco sulla seconda, però comunque hanno dei punti deboli che sicuramente il nostro allenatore saprà cogliere, saprà attaccare e quindi ecco ti dico la verità anche qui lo vediamo con un grande positivismo, un grande ottimismo e quindi io anche qui sono fiducioso perché comunque ho visto la squadra che ultimamente si è allenata bene, ha giocato bene, i giocatori hanno una grandissima voglia di essere riconfermati qui a Pesaro e quindi sicuramente daranno il 200% in campo. E allora un grande in bocca al lupo, Little Service, Loretto Basket e Calcio 5 per l'avvio di questi play-off che potrebbero portare alla promozione in caso nel basket e allo scudetto nel caso delle Calcio 5. Questa era l'ultima notizia del nostro Rossini News, prima però di lasciarvi alle previsione delle meteo, vi ricordo la programmazione su Rossini TV di questa sera a cominciare subito dopo questa nostra edizione, la prima del telegiornale alle ore 20, arriva Sinfonia di Maestri, il racconto della Rossini dell'Orchestra Sinfonica Rossini, ospiti della puntata saranno Franca Moschini, pianista e Saul Salucci, presidente e sovrintendente dell'Orchestra Sinfonica Rossini. La nostra prima serata, come tutti i martedì, è con Amministrando verso le elezioni del 2024, ore 21.20, gli ospiti di questa sera della puntata condotta dal giornalista Luigi Benelli saranno Marco Perugini del Partito Democratico e Dario Andreolli della Lega. E vi ricordo il nostro appuntamento con la rassegna stampa domani mattina in diretta alle ore 7.20, in diretta anche sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito e sulla app che vi invito sempre a scaricare, le repliche 8.20, 12.20, 14.20, 18.20, domani mattina a farvi compagnia la nostra direttrice Emanuela Rossi. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata.